Cari spettatori, benvenuti a un nuovo video. Oggi ci immergeremo nelle ultime novità riguardanti la vita di alcune celebrità. Nel nostro primo segmento, parleremo dell'interessante sviluppo nelle storie di Ilari Blasi, dove l'ex marito Francesco Totti ha fatto una sorprendente apparizione. Continua a guardare per scoprire cosa ha suscitato questa inaspettata comparsa. Francesco Totti e Ilari Blasi stanno cercando un equilibrio nella loro relazione. Ma sembra che ci siano ancora delle sfide da superare. Durante il compleanno del loro primogenito, Christian, è emerso che Francesco Totti non era presente alla festa. Per mantenere la pace, hanno scelto di festeggiare separati con il giovane Christian. Di conseguenza, alla sontuosa festa capua, erano presenti solo Ilari e i loro tre figli. Con Chanel accompagnata dal suo fidanzato. L'assenza del padre è stata notata. Lasciando molti a riflettere sulla situazione. Ilari ha condiviso un commovente messaggio di auguri per Christian sui social. Sottolineando l'importanza di guardare avanti nella vita. Durante le sue storie su Instagram, ha condiviso momenti significativi della festa. Tra cui un video con alcune foto importanti della vita del neo diciottenne. Tra queste foto, c'era anche una di Francesco Totti. Che per la prima volta è riapparso nelle storie di Ilari. Anche se solo in una foto. Nessun membro della famiglia Totti Blasi ha mancato di augurare a Christian su social media. Inclusi Ilari, Chanel e lo stesso Francesco Totti. Anche se era lontano. Tuttavia. Ciò che ha attirato l'attenzione è stata l'assenza di auguri da parte di Noemi Bocchi. Forse ha fatto gli auguri in privato. Ma alcuni follower hanno notato questa. Mancanza. D'altra parte. La figlia di Noemi. Ora acquisita come sorella di Christian. Ha condiviso gli auguri su Instagram. Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie e gli sviluppi riguardanti queste celebrità e altre storie interessanti. Ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Non perderti mai un aggiornamento? Iscriviti ora e resta connesso con noi per tante notizie intriganti. Grazie per averci seguito. E ci vediamo nel prossimo video.